Musica Buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione. In apertura di TG torniamo sulla vicenda di Fondeghiello di Maschale. Verrà eseguita domattina l'autopsia sul corpo della donna 38enne trovata impiccata lo scorso martedì nel bagno della casa di Velleghiello, appunto a Fondeghiello. Sul caso emergono ancora forti dubbi, in particolare sulla reale volontà della donna di togliersi la vita. I microfoni di LeTV parla l'avvocato del compagno della donna morta. Sentiamo. Verrà nominato nella giornata odierna il medico legale incaricato di eseguire l'autopsia sul corpo della 38enne rinvenuta cadavere martedì mattina dal figlio 21enne. nel bagno di casa di Velleghiello a Fondeghiello di Maschale, in quello che al momento rimane un mistero dai contorni oscuri. L'avvocato Francesco Marchese, incaricato dalla famiglia, attende di leggere l'effetto medico prima di esprimersi sul caso, su cui la procura mantiene il massimo riservo. Innanzitutto assistere è una parola grossa perché non ci sono indagati, non c'è nulla. Semplicemente ci sarà l'autopsia e quindi ovviamente, visto che sono stato sollecitato dalla stampa per avere delle informazioni, vi posso soltanto dire che come è corretto il Pubblico Ministero, tutto il regolo, ha deciso che sarà fatta un'autopsia per accertare le cause della morte. L'autopsia quando avverrà oggi? L'autopsia oggi sarà dato l'incarico, presumo che sarà fatta domani mattina. La donna, madre di due figli, si sarebbe impiccata con un fular stretto attorno al collo, agganciato ad appendiabili, circostanze che non ha convinto gli investigatori dei carabinieri e il medico legale che ha eseguito la prima ispezione cadaverica sul corpo della 38enne, riscontrando incompatibilità sulla reale volontà della vittima di togliersi la vita volontariamente. La posizione del corpo privo di vita e segni attorno al collo non sarebbero assimilabili a suicidio. Dubbi che potranno essere fugati dall'esame autoptico disposto dal Pubblico Ministero, Fabio Recolo che si occupa del caso. La salma della donna si trova al policlinico di Catania, più tardi, entro domattina, dal referto del professionista incaricato, si conoscerà la verità sul decesso della 38enne. Due, le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La prima potrebbe confermare il suicidio in seguito ai continui litigi col compagno, vinta dalla sconforto e dalla depressione in cui sarebbe precipitata, a causa di un rapporto ormai rogoro e non privo di momenti di violenza col compagno evidenziato dai lividi presenti sul corpo della poveretta e dell'uomo. Il secondo fronte delle indagini invece batte sull'omicidio per strangolamento la successiva simulazione a suicidio da parte dell'assassino. Il 41enne convivente della donna si è chiuso nel dolore e si professa innocente. Sul punto c'è soltanto molto dolore, non c'è altro da dire. Parliamo adesso di carceri. La Sicilia occupa il quarto posto in Italia per il numero di suicidi all'interno delle strutture penitenziali. Numerosi detenuti scelgono di lasciarsi morire di fame e questo rappresenta chiaramente un gesto estremo. Leo, amore mio, mi spiace, ho paura di tutto, di perderti e non lo sopporterei. Sono alcune delle parole scritte in un biglietto rivolto al fidanzato da Donatella, una detenuta di 27 anni che si è tolta la vita in carcere. Nel 2024 la condizione dei detenuti nella maggior parte delle case di reclusione rimane critica. I suicidi dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 58. Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, i penitenziari della Sicilia si collocano al quarto posto per numero di detenuti che si sono tolti la vita. Le strutture sono fatiscenti e i reclusi subiscono sia il caldo che il freddo. Vivono condizioni di isolamento dalla realtà sociale che spesso si trasformano in patimento della solitudine. Francesco Antille è il presidente della Camera Penale di Catania. Abbiamo strutture che non consentono neppure alla Polizia Penitenziaria di svolgere il proprio lavoro. Cioè abbiamo in questo momento registrato il fallimento dell'esecuzione penale e del sistema penitenziario italiano. Una delle motivazioni che sta alla base è anche l'isolamento di questi detenuti. Molto spesso la persona fisica ha la necessità di avere attorno una cerchia sociale che all'interno del carcere viene meno. Non solo non funziona il meccanismo rieducativo, e le faccio un esempio molto semplice. Un detenuto a Catanese, o meglio un imputato a Catanese, che sconta la detenzione a mille chilometri da Catania, con difficoltà per incontrare i familiari. Immagini che sia un ex tossicodipendente o un fragile. Immagini che debba affrontare a 45-48 gradi, che per noi sono un problema all'esterno, che i nostri rimedi ordinari, dentro al carcere si diventa liquefatti. È una emergenza oggettiva anche sul piano della dignità della persona. Molti detenuti decidono di lasciarsi morire di fame. L'ultimo caso nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa, dove un 67enne è stato per sei mesi in sciopero della fame e della sete, poi morto lo scorso 28 giugno. È un rimedio estremo. Si tratta di una situazione di mera passività, in cui il soggetto decide di rinunciare alla vita e di congedarsi da questo mondo, quando ha visto sostanzialmente fallire ogni prospettiva di impegno dello Stato per il suo reinserimento. Ad essere esposti ad alti livelli di stress psicofisico anche gli agenti di polizia penitenziaria, donne e uomini costretti a lavorare sotto organico e spesse in condizioni al limite della sopportazione. Incidente stradale in Viale Chiene di Acatani, all'altezza del Lido, la Cucaraccia, per causa ancora in fase di accertamento. Il conducente di un'auto ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un'altra autovettura. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia a municiparle per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco del comando provinciale di Catani che hanno provveduto ad estrarre dalle auto le persone coinvolte che comunque non hanno subito gravi danni. E ancora andiamo avanti. La Sicilia finisce sul New York Times e non per meriti in questa circostanza in un reportage della drammatica situazione legata all'emergenza idrica e su questo episodio chiaramente non mancano le reazioni. La Sicilia, sempre più sotto i riflettori internazionali a causa della pesante crisi ambientale in corso. La siccità che sta devastando la Sicilia ha fatto il giro del mondo attirando l'attenzione del prestigioso New York Times. Il quotidiano americano ha pubblicato un dettagliato articolo sugli effetti catastrofici della siccità in Sicilia sull'agricoltura e sul turismo dell'isola. La storia di Lorenzo Iraci Sareri un allevatore della Sicilia meridionale è emblematica. Circondato da colline aride che somigliano sempre più a dune del deserto Iraci Sareri vede i turisti godersi granite e bagni nel mar Mediterraneo mentre lui è costretto a mandare le sue mucche al macello a causa della mancanza di acqua e di cibo. Il lago di Pergusa una riserva naturale nel cuore della Sicilia è inoltre descritto come un cratere palido e asciutto simbolo di una crisi idrica senza precedenti. Le reazioni del mondo della politica alla drammatica situazione non sono tardate ad arrivare. Daniela Santanchè ha puntato il dito contro il quotidiano americano scrivendo che in aridire il turismo quasi colpevolizzandolo non fa altro che aggiungere danno al danno alla Sicilia. Matteo Salvini ha promesso invece una quota importante circa il 10% dello stralcio del nuovo piano per la sicurezza del settore idrico da destinare alla Sicilia e la Coldiretti lancia per bocca di Andrea Passanisi un appello disperato. Richiedere per l'ennesima volta non solo un intervento immediato da parte della regione ma una vera programmazione per il futuro. Solo con un'azione rapida e decisa possiamo sperare di superare questa crisi e preservare il nostro patrimonio agricolo. Torniamo a parlare dell'Etna attività stromboliana è stata registrata all'NGV di Catania attraverso immagini del sistema di videosorveglianza al cratere voragine dell'Etna. Le osservazioni degli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia osservatore etneo sono fortemente limitate a causa della copertura nuvolosa presente sull'area sommitale. Il modello previsionale di dispersione dell'eventuale nube vulcanica indica la direzione sud-est. Una sequenza di eventi sismici infrasonici associati ad attività esplosive è stata registrata per circa 15 minuti oggi dalle 13.44 alle 14.00. Gli eventi maggiormente energetici registrati dalle 13.54 il repentino incremento dell'ampezia media del tremore ha accompagnato questa fenomenologia raggiungendo valori alti e successivamente alla fine del fenomeno si è osservata una tendenza rientro dei parametri su valori precedenti medio-bassi. Il centroide delle sorgenti del tremore risulta localizzato in un'area compresa tra il cratere voragine e quello di sud-destra ad una quota di 2.800 metri sopra il livello del mare. Gli eventi infrasonici risultano localizzati alla cratere voragine. Il segnale della rete di monitoraggio delle informazioni e clinometrica non mostrano variazioni significative ma chiaramente è una situazione sempre in evoluzione. E adesso occupiamoci invece dei tassisti di Catania con la problematica relativa a quella che è l'estate 2024. I flussi turistici dopo il boom dello scorso anno comunque non sono da sottovalutare anche in questo periodo ma i tassisti lamentano un eccessivo caos veicolare lungo le strade e le arterie principali di Catania. E il caos veicolare in città la maggiore problematica per i tassisti catanesi che invece non si lamentano circa l'afflusso turistico in città soprattutto in via Domenico Tempio si creano gli intoppi maggiori anche a causa della realizzanda pista ciclabile per il resto invece l'estate sta andando bene per l'attività dei tassisti costante punto di riferimento per chi sbarca a Fontana Rossa al porto o alla stazione centrale? Diciamo che stiamo lavorando non siamo al top per come vorremmo spereremmo che fosse però ci stiamo lavorando diciamo che l'anno scorso abbiamo avuto qualcosina in più perché il post-covid ha portato un po' di incremento turistico improvviso quest'anno siamo nella normalità d'estate ovviamente lavoriamo un po' più che in primavera o in inverno e facciamo diciamo serbatoio per i periodi invernali per quanto riguarda il nostro lavoro ci stiamo lavorando ci sono punti più frequentati da turisti dove vi chiamano di più al porto all'aeroporto o è comunque una situazione complessiva? il turista ovviamente quando ha bisogno del taxi chiama sia dal porto che dall'aeroporto ovviamente la richiesta maggiore viene effettuata dall'aeroporto abbiamo disagi per poterlo raggiungere perché il traffico che troviamo per arrivare a destinazione del cliente è un po' complesso però cerchiamo di metterci mezzi per fare il prima possibile ma dal porto vi chiamano un po' meno utilizzano altri mezzi per spostarsi? al porto c'è uno scalo croceristico dedicato dove noi facciamo accesso non come magari succedeva in passato con diverse tipologie di macchine cioè nel senso con un vasto parco macchine ma siamo limitati a due massimo tre macchine all'ingresso all'interno del del molo diciamo croceristico quindi tante volte il turista esce vorrebbe il taxi ma non lo trova perché abbiamo l'ingresso graduato non come era in passato andiamo a Palermo eseguiti controlli a tappeto lungo le strade del capoluogo dell'isola nelle ultime 48 ore i carabinieri hanno elevato oltre 100 multe identificando 800 automobilisti nella maggior parte dei casi ad essere stato riscontrato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte degli automobilisti al volante del casco invece perché in scooter poi c'è chi guida senza patente senza assicurazione o revisione nell'arco di sole 48 ore sono state oltre 100 le multe inflitte per violazione al codice della strada 800 gli automobilisti identificati nel corso di controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Palermo con l'intensificarsi dell'esodo estivo aumentano in città i controlli su strada effettuati dai militari dell'arma l'obiettivo è garantire la sicurezza stradale e cercare di prevenire gli incidenti durante i posti di blocco quattro automobilisti sono stati beccati alla guida della propria vettura dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo dall'accertamento con l'etilometro sono risultati tassi alcolemici superiori a quelli consentiti dalla legge in campo gli equipaggi del nucleo radiomobile che in sinergia con le compagnie di Piazza Verdi e San Lorenzo hanno passato al setaccio le strade della città dal centro ai quartieri di periferia l'attività di controllo fanno sapere dal comando provinciale di Palermo proseguirà incessante anche nelle prossime settimane e sempre a Palermo sbarca la campagna mettiamo il turismo sotto sopra iniziativa promossa dalla CGL che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sul lavoro precario e lo sfruttamento che colpisce molti operatori turistici salario dignitoso condizioni di lavoro sostenibili e rispetto per i lavoratori scopo della campagna mettiamo il turismo sotto sopra organizzata dalla CGL è quello di portare all'attenzione sensibilizzare ed informare la cittadinanza in merito alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gran parte dei lavoratori che operano nel turismo il 70% dei lavoratori dati dell'Ispettorato del Lavoro Nazionale dicono che il lavoro è irregolare il 40% diciamo di questi lavoratori in genere viene sotto inquadrato il 60% è part time con salari bassissimi e con tante ore di lavoro in più che non vengono retribuiti spesso questi lavoratori non conoscono il contratto collettivo nazionale che regola il loro rapporto di lavoro quindi questa diventa anche una campagna informativa stamattina la campagna nazionale che come consuetudine fa tappa nei luoghi di vacanza è sbarcata a Palermo presente nei pressi dello stabilimento balneare Charleston di Mondello una postazione fissa per la distribuzione di materiale informativo e gadget noi proviamo a spingere per un turismo sostenibile e diffuso che faccia sì che non ci siano queste pratiche di dumping sociale e dumping salariale che effettivamente è diffusissimo se si va un po' in giro a parlare con questi lavoratori spesso si riscontra il timore di parlare perché hanno paura di perdere anche quel poche anno la campagna giunta alla settima tappa del tour nazionale sta passando in molte regioni città e piccoli centri pneumatici in disuso abbandonati in pieno centro in una zona già di suo degradata attaccata a Catania al corso Marti della Libertà all'angolo con via Archimede vediamo una indecenza tra il degrado in piena città tra la via Archimede del corso Marti della Libertà due passi dalla stazione ferroviaria della Corso Sicilia in uno dei famosi fossati lasciati tra incurio e degrado la presenza adesso anche di pneumatici abbandonati siamo a Catania in una zona assai frequentata in tutte le ore del giorno una situazione che rappresenta un grave pericolo ambientale così come evidenziato dal vicepresidente del primo municipio di Catania Giuseppe Arcidiacono un problema quello delle discariche sempre più evidente e preoccupante che mina l'incolumità dei residenti della zona asserisce in una nota lo stesso Arcidiacono invitando chi di competenza ad agire subito cercando di trovare le soluzioni più appropriate per evitare questa indecenza da tempo si parla della riqualificazione di quella parte di Catania che in passato ha dato anche ospedalità a Clochard senza tetto adesso l'appello rinforzato nei confronti dell'amministrazione comunale del sindaco Trantino affinché si possa procedere in tempi brevi ad una bonifica e riqualificazione che restituisca dignità a quella zona e non solo quarta edizione del premio Palma d'Argento con riconoscimenti a personalità che si sono distinte per attività benefiche la cerimonia nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Venera patrona di Cireale nella cornice di Piazza Duomo vediamo alla quarta edizione del premio Palma d'Argento nella cornice barocca di Piazza Duomo di Cireale premiate due importanti personalità che si sono distinte per attività benefiche e riconoscimento nell'ambito della ricorrenza delle festività in onore di Santa Venera patrona della città e organizzato in collaborazione con la diocesi dal centro servizio per il volontariato del neo dalla reale cappella di Santa Venera è stato istituito per celebrare l'esempio della martire cristiana che assisteva agli ultimi come volontari a tre volontari e per mettere in luce alcuni buoni esempi nel nostro tempo presente i riconoscimenti sono stati consegnati a Paola Trico di 32 anni ricercatrice catanese in servizio all'università per stranieri di Siena poetessa scrittrice appassionata di scienza e cultura nominata cavaliere dell'ordine al merito dal Presidente della Repubblica per la sua determinazione nel voler abbattere gli impedimenti e gli ostacoli in modo che sia garantito il diritto allo studio delle persone con disabilità l'altro riconoscimento è stato assegnato al Vare Sotto Marco Rodari 49 anni conosciuto come il clown pimp ha scelto per il coraggio e la determinazione con cui ha generato speranza e regalato un sorriso a bambini e famiglie afflitte dalla guerra in ogni parte del mondo la serata presentata da Ruggero Sardo con l'esecuzione di musica sacra e della Reale Cappella diretta da Alberto Pataneo orchestrate sotto la direzione di Giuseppe Romeo alla presenza delle massime istituzioni politiche e religiose non è soltanto la fascia produttiva del paese cioè le cosette aziende profit che danno un contributo inevitabile alla ricchezza e dunque all'allargamento della civiltà lo fanno anche la parte del non profit del volontariato perché va a sanare o addirittura a dare un vero contributo a molte ferite che la nostra società purtroppo genera continua a generare quindi lo ritengo alla pari fondamentali per una convivenza umana della nostra società la grande capacità che è il volontariato di guardare i problemi dei nostri giorni una delle tante occasioni per raccontare al grande pubblico il mondo del volontariato e creare sinergie istituzionali così il presidente del CSPOE organizzatore del premio Palma d'Argento Salvo Raffa attraverso Paola e Marco che sono i due premiati vogliamo premiare tutto quel volontariato che ogni giorno in maniera gratuita si impegna nel territorio si impegna nella comunità lo facciamo in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona di Aciriale lo facciamo in occasione appunto di Santa Venera Venera come esempio come esempio di volontaria tra i volontari insomma la tradizione vuole che proprio Santa Venera aiutava gli ultimi in quelle che sono le attuali termini di Santa Venera al Pozzo Il calcio adesso con la campagna abbonamenti avviata dalla Catania FC eppure tra i tifosi si registra qualche malcontento per l'aumento dei prezzi Prende il via la campagna abbonamenti del Catania Football Club denominata Ti amo da morire Per i vecchi abbonati ci sarà tempo infatti fino al 6 agosto per esercitare il diritto di prelazione per il rinnovo confermando il posto già assegnato anche se non mancano le lamentele e i commenti negativi dovuti al listino prezzi che delinea rincari sparsi un po' per tutti i settori l'aumento più significativo riguarda la prelazione nelle curve inflazionato del 33% e che passa dunque dai 90 euro dello scorso anno ai 120 attuali Ma sinceramente ci aspettavamo o che mantenessero i prezzi all'anno scorso o addirittura quantomeno quelli della Tribuna B facessero un piccolo ritocco al ribasso visto che l'anno scorso a mio avviso siamo stati abbastanza penalizzati però invece hanno aumentato in maniera importante l'abbonamento di Tribuna A e di un pochino quella di B però pazienza speriamo almeno che ne valga la pena e che quest'anno il Catania ci porti dei frutti e della soddisfazione Lei ha deciso di rinnovare il suo abbonamento? Io l'ho appena rinnovato e sì decisamente sì Quale settore? Tribuna B Malcontento diffuso dunque tra chi denota una certa insofferenza ed indecisione sul da farsi e chi invece sottoscriverà l'abbonamento per la prima volta non lesinando tanti buoni propositi Ma per me qualsiasi prezzo basta che vada allo stadio per il Catania non ci sono prezzi va per il Catania A fare discutere ci sono anche i prezzi dei singoli biglietti per match oggetto di significativi aumenti si va dai 16 euro in curva ai 30 in Tribuna B passando per i 45 della Tribuna A cifre a cui poi andranno sommati anche i costi di commissione solitamente sui 2-3 euro previsti dal circuito al momento dell'emissione del tagliando elettronico e che fanno dunque lievitare ulteriormente i costi I prezzi per la categoria secondo me sono un po' altini però allo stesso tempo il Catania sta spendendo tanto speriamo di non deludere come l'anno scorso ci sta pure Intanto nuovo incarico istituzionale per il vicepresidente Vincenzo Grella che è stato nominato consigliere del direttivo di Lega Pro E con questa notizia si chiude il nostro notiziario vi ricordo che la prossima edizione del Tragionnale andrà in onda domani a partire dalle 14 questa invece la potete seguire sul nostro sito www.retv.it e sui canali social ringrazio in regia Fulvio Ferrauto e vi auguro buona serata arrivederci a partire Grazie a tutti.